Sei persone rischiano il processo per la morte di Elena Obri, la 26enne romana che il 7 maggio 2018 ha perso la vita dopo un incidente con la sua moto sulla via Ostiense a causa dell'asfalto dissestato nel tratto di Ostia. La procura ha finalmente chiuso le indagini e per i PM quella tragedia è da debitare a chi doveva vigilare sulle condizioni della strada e non l'ha fatto. Indagati due dirigenti del Dipartimento Simu di Roma Capitale, un funzionario del decimo municipio, il titolare della ditta incaricata della manutenzione e due delegati della stessa azienda responsabili della sicurezza. L'accusa è di omicidio stradale e il rinvio a giudizio dovrebbe essere molto vicino. Fondamentale si è rivelata la testimonianza dell'infermiera che per prima si fermò a soccorrere la giovane motociclista, rintracciata dopo diversi mesi incrociando i dati del traffico telefonico. Come già affermato da altri testimoni oculari, Elena non correva in sella alla sua moto e sbandò a causa di avvallamenti e radici. Spero che l'eventuale processo imponga quanto dovrebbe essere ovvio, le strade vanno curate, altrimenti si muore, ha commentato la madre della vittima, Graziella Viviano. Purtroppo c'è voluta la morte di mia figlia per svelare quanta indifferenza c'è su questo tema nella pubblica amministrazione.